Buonasera, ciao a tutti, io sono Junior, però adesso sono Magida, la primera prostituta, la prima. Di questo qua siamo prima di uscire a fare il passacaglie, la ultima, ossia il T-end. Io sono il direttore artistico, però come vede oggi, io sono la Miss. It's something really special, because I've been with La Troia now five years, and at my age, and I'm quite old, it keeps me young. Io sto lavorando in La Troia, perché La Troia è un simbolo di libertà. Le persone che lavorano in La Troia sono di tutto, cultural, social, politico, però tutti, tutti, noi, diciamo, perché l'unico che ci importa è divertirci e ballare, perché il balle è una terapia per il corpo e per la mente, e la musica anche. Io ho 20 anni che ballo in La Troia, e ogni anno mi sento più jove e più felice, quando arriva il verano, dico, che suerte, io vorrei a ballare in La Troia. La Festa della Troia La Festa della Troia rappresenta un modo dove si può esprimere se stessi della libertà. Ovvero, la Festa della Troia è importante perché non fa differenza e discriminazione in questi vari punti, cioè sessualità, razza, colore. Siamo tutti quanti uguali, la cosa importante che ci accomuna è divertirsi, fare festa, senza giudicare, cioè è come un carnevale. Non mi importa cosa sei, cosa fai, mi importa in questo momento cosa sei. Vuoi divertirti? Benvenuto. L'importante è divertiti. Dimentica di tutti i problemi che hai, dimentica di tutto. Non mi importa se sei gay, etero, sessuale, quello che ti pare, cavalli, cammelli, l'importante è che ti vuoi divertire, come ti vesti, non mi importa. L'importante è che vai di festa con l'animo, di festa, ti vuoi divertire in modo quello che ti pare. Vuoi travestire? Carnevale? Ti vuoi vestire da cavallo, da cammello? Tu sei un personaggio da noi, i nostri ospiti sono artisti. Benvenuti, divertitevi. Questa è una cosa importante di Bizza. La Troia è questa. La Troia per l'isola di Bizza rappresenta praticamente tutto. È una festa che ha cominciato in privilegio e adesso siamo cambiati, siamo dati all'espace e adesso siamo tornati all'amnesia. È una festa che ci sta più o meno a 15 anni. e è l'essenza perché tutti quelli che lavorano alle altre feste, dopo le quattro, vengono da noi a fare le loro feste. Quindi per noi questo è un piacere e anche un esempio per le altre feste. Noi siamo l'essenza, diciamo la madre delle feste gay. And I'll be loving you all the time, it's true. And I want to make it right, it's true. Ladies and gentlemen, you must come to La Troia. Always, if you see La Troia advertised in your city or town, this is the place, this is the party. We want to see you at La Troia. Yes! A tutti quelli che tuttavia ancora non sono venuti alla Troia, vi consiglio di venire prestissimo perché intanto siamo nella chiusura, però stiamo sempre in giro, siamo con La Troia on tour. Adesso, alla prossima settimana andiamo in Russia, però saremo praticamente tutti i mesi di novembre e dicembre in Italia. Quindi in bocca al lupo vi aspetto a tutti. Io sono Magda della Troia. Un bacio. Ciao! Magda della Troia